Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova cover. Non siamo nel solito e consueto set, perché sennò stavamo troppo spinti. E perché questo è un brano difficile, bisogna stare seduti e concentrati. E questo è un omaggio a un artista che personalmente mi ha fatto conoscere, il qui presente maestro Giovanni Frassinetti, che è bassista, ma oggi vi mostrerà anche qual è l'origine Azimuth Tips, remember? Io sono chitarrista. Di Giovanni appunto, nasce come chitarrista. Comunque, questo brano è un brano che lui addirittura scrisse per gioco, in un'intervista dice che lui fece questa prova, questo divertimento, e ne viene fuori un brano bellissimo, un brano di una semplicità disarmante che è solo che è da ascoltare. Non è vero! Va bene, siamo pronti? Vai, sì. Prego maestro. Ehi, ci stai a farti una risata, a vivere ogni tanto la tua vita, la giornata. Ci stai, ci stai a far due passi insieme, su campi di trifoglio, sotto cieli di cotone. Ci stai a fare un rock, portarlo per la strada, ci stai ad essere sempre tu, qualunque cosa accada. Ci stai un po' per gioco, a toglierti la gonna, a metterti nel letto con la gioia di essere donna. Ma ci stai, oh no, a credere in qualcosa, volare la sotterra, senza chiedere mai scusa. Ci stai, ci stai, ci stai a far la doccia insieme, impegno, disimpegno, un po' di fresco ci sta bene. Ci stai a rotolare, nel fango della strada, a stare in equilibrio sulla lama di una spada. Ci stai a scatenarti, a farti un giro in pista, con i blue jeans a pelle ed il seno bene in vista. Ma ci stai, oh no, ci stai a questo gioco, che sembra così poco, ma che invece non lo è. Ehi, ci stai a farti una bottiglia, a parlare ad un amico senza dirgli che si sbaglia. Ci stai, ci stai a fare penitenza, scontare i tuoi peccati senza averli confessati, per ruderli un po' di più. Ci stai a fare un rock, giù per la strada, ci stai ad essere sempre tu qualunque cosa accada. Ci stai un po' per gioco, a toglierti la gonna, a metterti nel letto con la gioia di essere donna. Ma ci stai, oh no. Ma te ci stai o no? A voi la scelta.